È chiaro che l'esistenza conferisce un qualcosa in più alla cosa, e se la cosa può essere solo pensata come la più grande che esista, in realtà non è la più grande che esista, perché potrebbe essere pensata la stessa cosa, ma poiché dotata del carattere dell'esistenza, sarebbe ancora più grande. E ciò sarebbe contraddittorio, evidentemente, se stiamo parlando della cosa più grande che esiste. Oggi avremo a che fare con una parola chiave un po' insolita, perché in realtà non si tratta di una parola chiave, ma potremmo dire di un'espressione chiave. Qual è? Prova ontologica dell'esistenza di Dio, oppure la dimostrazione ontologica, potremmo dire mentalista o a priori, dell'esistenza di Dio. Si tratta di un'espressione chiave della storia della filosofia, chiunque abbia studiato, intenda studiare ad esempio la filosofia moderna, autori come Cartesi o come Leibniz o come lo stesso Kant, che critica questa prova ontologica, se la ritrova, è costretto a farci i conti. Quindi si tratta di un concetto che ha influenzato tantissimo la storia della filosofia, e noi ovviamente dobbiamo conoscerlo. E dobbiamo anche fare una certa attenzione, perché abbiamo notato che sul web si trovano dei video che sono poco precisi su questo. Noi come sempre andremo a leggere dentro, quindi andremo a citare dall'opera in cui è contenuta questa prova ontologica dell'esistenza di Dio. E qual è quest'opera? E chi è l'autore? L'autore è Anselmo d'Aosta, e l'opera si intitola Proslogion o Proslogio. Si tratta di un'opera scritta più o meno tra il 1077 e il 1078 d.C. da Anselmo d'Aosta o Anselmo di Cantepoli. Quindi già dalla datazione, appunto, ci troviamo in pieno Medioevo, si capisce la potenza di questo concetto, la potenza di quest'opera che è stata in grado veramente di influenzare la filosofia per secoli e secoli. Ma non perdiamo tempo e cerchiamo di capire immediatamente in che cosa consiste questa spiegazione di Anselmo, appunto, circa l'esistenza di Dio. Come Anselmo d'Aosta dimostra l'esistenza di Dio attraverso, lo ripetiamo, una prova, una dimostrazione a priori. Questa è la caratteristica del Proslogion. Lo ripetiamo perché precedentemente, ovvero prima del Proslogion, Anselmo d'Aosta scrisse un'altra opera che si intitola Monologion e in questa opera invece è contenuta una prova diversa dell'esistenza di Dio, la cosiddetta prova a posteriori. Questo a noi non interessa perché non ha niente a che fare, e qui è la confusione anche che abbiamo notato su alcuni video presenti nel web, quella confusione che noi non dobbiamo fare perché a noi interessa la prova ontologica. Ma partiamo subito dalla citazione e vediamo che cosa scrive Anselmo nel Proslogion. Ora, noi crediamo che tu sia qualche cosa di cui nulla può pensarsi più grande. Si sta riferendo ovviamente a Dio. Anche lo stolto dunque deve convincersi che vi è almeno nell'intelletto una cosa della quale nulla può pensarsi più grande. Questo è il presupposto da cui parte Anselmo d'Aosta. Lui dice, quando pensiamo a Dio, che cosa stiamo pensando? Stiamo pensando a quella cosa di cui nulla si può pensare di più grande. Quindi qualcosa che sia più grande di lui non è possibile pensare. Tu sei quella cosa della quale nulla di più grande si possa pensare. Questo è il presupposto da cui parte Anselmo d'Aosta. Facciamo attenzione. Perché lui dice, chiunque, qualsiasi persona, pensa questo. Nella mente di ognuno di noi è presente questo pensiero, potremmo dire. Dice anche dello stolto, anche di chi voglia negare l'esistenza di Dio. Ovvero, anche chi nega l'esistenza di Dio, però è costretto ad ammettere che Dio sia quella cosa più grande di tutte. Cioè quella cosa che non ammette qualcos'altro di più grande. È come se fosse il pensiero più grande di tutti. Non si può pensare qualcosa di più grande di Dio. Dio è quella cosa per la quale non si può pensare nulla di più grande. Questo lo deve ammettere chiunque, sia chi crede nell'esistenza di Dio, sia chi non crede. Chi non crede dirà, sì, è quella cosa della quale non si può pensare nulla di più grande, però non esiste. Ma leggiamo allora che cosa scrive Anselmo d'Aosta. Ma certamente ciò di cui non si può pensare il maggiore non può esistere solo nell'intelletto. Infatti, se esistesse solo nell'intelletto, si potrebbe pensare che esistesse anche nella realtà. E questo sarebbe più grande. Anche qui, attenzione, seguiamo il ragionamento di Anselmo, spieghiamo questa citazione. Perché è un passaggio logico, appunto un passaggio razionale, mentalista. È un passaggio a priori. Sono tutte considerazioni che secondo Anselmo si possono ricavare a priori. Questa è la prova a priori dell'esistenza di Dio. Perché non necessita di nulla, di nessuna prova, di nessuna evidenza che stia fuori, al di fuori. Quindi è speribile attraverso i nostri sensi o conoscibile in maniera diversa. Per Anselmo sta dentro di noi questa prova, ci possiamo arrivare logicamente. E che cosa dice? Se Dio è quella cosa di cui non si può pensare nulla di più grande, quindi è la cosa più grande che si possa pensare, che cosa dice Anselmo? Questa deve necessariamente anche esistere. Cioè non può essere soltanto qualcosa che risiede nel nostro pensiero, nel nostro intelletto. Perché? Perché noi potremmo, dice Anselmo, pensare a questo punto una cosa come Dio, cioè la cosa più grande che si possa pensare, ma caratterizzata anche dall'esistenza, anche esistente. E quindi a quel punto arriveremo al paradosso per cui ciò che noi abbiamo pensato come anche esistente diventi più grande e sia più grande di ciò che abbiamo soltanto pensato come la cosa più grande ma non esistente. Ma cerchiamo di capire meglio questo concetto. Questo è un telefono che ha il vetrino piuttosto sporco. Questo telefono è un oggetto esistente. Io ce l'ho in mano, ci posso telefonare, posso fare tante cose. Quindi posso usufruire di questo telefono la certezza che sia esistente. Ora, io potrei andare a prendere il libretto delle istruzioni di questo telefono. Che cosa noterei? Noterei il classico disegnino del telefono. Quei disegnino potremmo dire non è altro che il progetto anche del telefono, l'immagine del telefono, l'immagine che deve aver avuto chi l'ha progettato e chi poi è andato a dare indicazioni su come costruirlo. Sono due cose ben diverse. Un conto è avere l'idea del telefono, un conto è pensarlo, un conto è avere il suo progetto. Ben altra cosa è l'oggetto reale compiuto. Un conto, dice Anselmo, è avere l'idea di un quadro. Altra cosa è realizzarlo. Ora, non c'è dubbio, secondo Anselmo, che la cosa realizzata, pienamente compiuta, quindi il pensiero che non è soltanto pensiero, ma che diventa anche esistente, sia superiore rispetto alla sola cosa pensata. Ma allora, se Dio è qualcosa che risiede soltanto nel nostro intelletto, soltanto nel nostro pensiero, dice Anselmo, un po' appunto come il disegno di un telefono o lo schizzo di un dipinto, o soltanto l'idea di un dipinto che non si è ancora realizzato, sarebbe sbagliato considerarlo come la cosa più grande. Sarebbe in realtà una cosa incompiuta e noi potremmo pensare la stessa cosa, la più grande di tutte, però come esistente. E quindi a quel punto penseremo qualcosa paradossalmente di più grande di Dio, il che è impossibile. Quindi per Anselmo la cosa più grande di tutte, la cosa più grande che noi possiamo pensare, la più grande di tutte, per cui tutte necessariamente sono inferiori, non può non essere dotata anche di questo carattere, dell'esistenza. Questa è la spiegazione ontologica dell'esistenza di Dio per Anselmo. Ma continuiamo a leggere ciò che dice Anselmo Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste solo nell'intelletto, ciò di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore, il che è contraddittorio. Esiste dunque senza dubbio qualche cosa di cui non si può pensare il maggiore è nell'intelletto e nella realtà, in intellektu et in re. Questo è ovviamente Dio. Ora poi la trattazione di Anselmo prosegue nel proslogion e ci indica tutta una serie di caratteristiche presenti in Dio e ci spiega anche il perché di queste caratteristiche e risolve tutta una serie di questioni. Sono anche molto interessanti. Ad esempio lui si chiede come mai Dio possa sentire se è soltanto spirito e se non è corpo. E lui dice può sentire Dio perché? Perché conosce tutto. In effetti i sensi a che cosa sono rivolti se non a questo, se non a conoscere. Ma per chi conosce già tutto si può dire quindi che senta tutto anche se è soltanto spirito, soltanto tra virgolette, cioè se non è corpo. E poi si chiede un'altra cosa molto interessante subito dopo. Questo è curioso perché dice Anselmo com'è possibile che Dio possa essere definito onnipotente? In realtà Dio non può tutto. Perché onnipotente? Non può tutto perché? Perché ad esempio non può mentire. Perché non può commettere il male. Ci sono tante cose in effetti che Dio non fa, ma che non può fare per essere Dio. E come risolve la questione Anselmo? Ci dice ma in realtà queste non sono potenze. Il mentire non è una potenza, il comportarsi male in generale non è una potenza, e corruzione. Cioè è l'essere sottomessi in realtà, soggettati ad un'altra potenza. E ci porta a comportarci in questo modo per perdebolezze che ci conduce poi peraltro in circoli viziosi che ci schiacciano, dai quali noi siamo soggetti in realtà. Quindi è tutt'altro che potenza. Si tratta in realtà di impotenza. Quindi Dio è onnipotente perché la sua è realmente una potenza. Una potenza che non si fa schiacciare da queste cose, che in realtà rivelano impotenza. E poi ci sono tanti altri aspetti di quest'opera. Ma l'ultima cosa che vogliamo dire è questa. La prova ontologica dell'esistenza di Dio, come abbiamo visto, è stata appoggiata da tanti filosofi, è stata criticata. Lo stesso Kant, lo abbiamo visto nel video sulla critica della ragion pura, critica la prova ontologica di Anselmo. Ma la prima critica, in realtà Anselmo la ricevette quando ancora era in vita e rispose anche a questa critica, la critica venne da un altro filosofo che si chiamava Gaunilone. Che cosa dice Gaunilone? Gaunilone dice che quello che sostiene Anselmo sia criticabile sotto due aspetti. In primo luogo, Gaunilone non riconosce il legame tra ciò che sta nel pensiero e ciò che esiste. Lui dice, noi possiamo anche pensarla una cosa, possiamo pensare ad un'isola deserta, a qualsiasi cosa, ma non è detto che poi questo esista in realtà solo perché possiamo pensarlo. Inoltre, il concetto stesso di cui si serve Anselmo, cioè quanto di più grande si possa pensare riferito a Dio, dice Gaunilone, è un qualcosa che sfugge in realtà all'individuo. L'individuo non è in grado di afferrare questo concetto della cosa più grande che si possa pensare. Molto brevemente e qui concludiamo che cosa risponde però Anselmo d'Aosta Gaunilone. Anselmo d'Aosta risponde così, dice, è vero che ci sono delle cose, tutte le cose finite che possono essere soltanto pensate, ma non è che per il fatto che le si pensi appunto poi queste debbano necessariamente esistere. Questo vale per tutte le cose finite, ma non vale per la più grande che si possa pensare. Per la più grande che si possa pensare logicamente vale questo principio che se è realmente la più grande deve anche esistere. Perché lo abbiamo visto prima anche con l'esempio del telefono, con l'esempio del dipinto, è chiaro che l'esistenza conferisce un qualcosa in più alla cosa. E se la cosa può essere solo pensata come la più grande che esista, in realtà non è la più grande che esista, perché potrebbe essere pensata la stessa cosa, ma poiché dotata del carattere dell'esistenza, sarebbe ancora più grande. e ciò sarebbe contraddittorio evidentemente se stiamo parlando della cosa più grande che esiste. Inoltre, per quanto riguarda la critica al concetto appunto della cosa più grande che si possa pensare e che poi richiama l'individuo appunto all'assoluta incapacità di pensare Dio, la cosa più grande e a potersi servire soltanto della fede, dice Anselmo d'Aosta che in un certo qual modo è possibile per l'individuo capire questo, ce l'ha al suo interno, è chiaro che non riesce a afferrarlo in tutta la sua potenza, perché Dio in tutta la sua potenza e in tutta la sua onnipotenza come abbiamo visto è inconoscibile. Tuttavia è presente nell'individuo questa capacità, cioè la capacità di pensare, di capire in un certo qual modo la cosa più grande e di capire inevitabilmente che questo ovviamente sia Dio. Questo è brevemente ciò che noi troviamo nel proslogen, questa è la prova ontologica dell'esistenza di Dio di Anselmo d'Aosta. Se questo video vi è piaciuto noi vi invitiamo come sempre a mettere il like, iscrivervi al canale, seguite anche la nostra pagina Facebook, è tutto gratuito, lo ricordiamo e insomma ci date anche una mano a far crescere questo canale, questo progetto. iscrivervi al canale